Oggi può sembrare anacronistico parlare dell'alimentazione di 4.000 anni fa, però abbiamo ritenuto interessante mostrare cosa di cui disponevano queste persone, ma nella fattispecie oggi siamo in grado di presentare un pane dell'antica età del bronzo, un pane di 4.000 anni fa, e un'analisi sui vinaccioli trovati in uno strato del bronzo medio di Bande di Cavriana. Alla conclusione dell'inaugurazione sarà possibile assaggiare un pane ricostruito sulle scorte delle analisi fatte sul pane preistorico. È abbastanza completa perché mostriamo tutto quello che c'è dalla caccia alla pesca. A questo punto faccio anche un altro riferimento. All'interno di una piroga che abbiamo trovato a Bande di Cavriana c'era un luccio, per cui è un pesce praticamente intero che abbiamo potuto studiare e collegare anche all'alimentazione di allora. È un pane macinato fine e poi successivamente anche burattato, probabilmente con una tela di lino con diametri di non più di un millimetro, per cui è un pane integrale ma molto fine. Poi secondariamente non contiene elementi minerali che sono frequenti nel caso di macinatura a sella, cioè sasso contro sasso, come si faceva normalmente nella preistoria, ma anche in epoca recente quando si usava per esempio macine di arenari. Terzo è un pane prevalentemente di orzo, per cui si vedono piccolissimi particolari che indicano la presenza prevalentemente dell'orzo e succede in parte anche del frumento che ha permesso lievitazione. Qual è lo scopo di queste mostre? Innanzitutto far comprendere come certi depositi archeologici sono un immenso archivio di informazioni scientifiche ma anche emozionali, perché vedere un pane di 3.800 anni fa ancora lievitato, ancora con alcune caratteristiche che non si immaginerebbe, io penso che sia anche un dato emozionale importante. Contemporaneamente c'è una ricerca molto sviluppata sui diversi tipi di cereali, in qualche modo proprio dai dati archeologici vengono resti di cereali estinti che potrebbero essere interessanti anche per la ricerca attuale, per rispondere a problemi di certe malattie come la celiachia o per anche migliorare la produzione con sistemi naturali, non geneticamente modificati, la produzione attuale. L'Expo non è solo Milano ma è tutto il territorio, io mi auguro e ne sono anche sicuro tutto il territorio nazionale dell'Italia, quindi l'Italia come una grande vetrina, noi facciamo la nostra piccola parte, ecco e questa è una cosa molto importante. Quindi io invito tutti a venirci a visitare, noi saremo aperti con questa mostra fino ad ottobre, ci sono i vari orari anche sui siti e quindi siete insomma i benvenuti. Ecco.